A Pescara nelle ore notturne non si vedono più i parcheggiatori abusivi nell'area di risulta della stazione ferroviaria centrale grazie alla presenza delle guardie giurate. Esulta l'assessore comunale Gianni Teodoro, mentre l'UGL critica l'iniziativa. Il segretario regionale UGL Sicurezza Civile Fabio Urbini e il segretario generale provinciale di Pescara Armando Foschi affermano che la sicurezza in quell'area può essere garantita dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine. Questa soluzione pertanto ha un costo che la collettività poteva risparmiarsi. La sicurezza è una priorità sia nell'area di risulta che nelle altre zone della città, ribadito l'assessore Teodoro. Considerato il risultato che stiamo ottenendo sicuramente, certamente, proporrò insieme al Sindaco, alla Giunta di continuare non più a sperimentare ma ad inserire un servizio di questo tipo all'interno dell'area di risulta. Tenga presente che non è soltanto l'unica azione di deterrenza che si fa con questo servizio perché noi arriveremo con le telecamere da lì a poco e avremo quel territorio completamente sorvegliato per cui credo che a questa azione si unisca un'altra azione molto più complessa e articolata che questi occhi elettronici che saranno dislocati sull'intera città, nei quartieri periferici e nel tempo la città di Pescara ovunque e dappertutto sarà controllata attraverso questi occhi elettronici. Il segretario Urbini interviene anche su un'altra anomalia che riguarda l'affidamento a privati dei controlli sui mezzi pubblici della società dei trasporti TUA. I controllori TUA già ci sono come dipendenti quindi vai ad offendere quello che è il lavoro di questi dipendenti e mettere delle persone che non hanno nessuna titolarità per fare cosa, pagati per... Tra l'altro ci viene riportato anche che ci sono dei ritardi sulle corse perché bloccano i passeggeri, controllano e ad oggi però non abbiamo una risposta da TUA nonostante abbiamo fatto varie richieste per sapere a che titolo è stato fatto questo affidamento che seppur sotto soglia è stato affidato in modo un pochino così senza avere una trattativa con i sindacati con cui era stata fatta una riunione e con cui si era raggiunto un accordo che la tutela era di tutt'altro tipo cioè con le forze dell'ordine con i carabinieri, la polizia tramite i cellulari e tramite delle chiamate apposta che avrebbero salvaguardato sia i passeggeri che i conducenti.